Il Comitato Resistenza e Costituzione ha aperto un profilo Facebook. Nella pagina istituzionale trovano spazio i racconti legati alle stragi e alle battaglie, i fatti che hanno colpito l'immaginario collettivo, le persone della Resistenza, le loro vite, i luoghi dei viaggi del progetto di storia contemporanea, come sono stati vissuti dagli studenti e tutte le iniziative promosse dal Comitato.